Si continua a lottare per gli ospedali minori ragusani ma anche per i maggiori come quello di Vittoria. La sanità iblea in fermento ma soprattutto dal lato degli utenti che non vogliono altri tagli e ridimensionamenti ai nosocomi. Ieri mattina sia a Comiso che a Scicli si è manifestato rispettivamente di fronte regina Margherita e il Busacca. I cittadini hanno chiesto con forza che l'ASPEL 118 facciano un passo indietro ritirando la circolare che di fatto chiude all'utenza i due pronto soccorso. Con i cittadini anche alcuni esponenti politici di Comiso e Scicli. Ancora impressa nella memoria c'è la sventura accaduta all'anziano comisano morto in seguito a un incidente stradale che ha dovuto attendere oltre mezz'ora prima di vedere arrivare un'ambulanza. Probabilmente anche se il mezzo di soccorso fosse arrivato in tempo il quarro clinico non sarebbe cambiato di molto, l'uomo non indossava il casco, l'impatto con l'asfalto è stato diretto. Ciò non toglie però che questo episodio aggiunge ulteriore benzina al fuoco delle polemiche. A Vittoria invece i consiglieri comunali del gruppo Nuovo Inizio, Daniele Barrano e Salvatore Sansone e Andrea La Rosa di Forza del Sud hanno inoltrato una lettera ai vertici dell'ASPEL di Ragusa per chiedere il potenziamento del pronto soccorso del Guzzardi. Da più di un mese scrivono i tre consiglieri a ricevere le emergenze. Ci sono soltanto un medico e un infermiere.